Massimo D'Alfavo, Presidente del Comitato Regionale Trentino della FIPA. Massimo, ormai ci siamo, il conto della ravescia è finito. Oggi ci rimane l'inaugurazione di queste chinderie di trofeo delle regioni. Sicuramente l'emozione è tanta. Sì, molta. Come quasi prima di una partita importante, non ti nego. Quindi anche per me, a parte il caldo in questo scenario stupendo che è il Mart, quindi una cupola veramente straordinaria, e quindi aspettiamo il momento che adesso arrivino tutte le squadre e quindi poi formalmente iniziamo. Faremo anche fede al giuramento, che lo faranno sia una ragazza che un ragazzo e un arbitro e poi inizieremo ufficialmente, daremo inizio ufficialmente a questo 34esimo trofeo delle regioni chinderie di. È stato un lungo lavoro di preparazione. Qual è l'obiettivo numero uno che vi siete posti e che vi siete chiesti? Ma guarda, innanzitutto devo ringraziare tutti i volontari che veramente hanno dato una grossa mano, tutte le società che sono adoperate con i pulmini, con tutte le persone, che ci hanno dato veramente un grosso apporto. E quindi questo è l'obiettivo, è quello di cercare che tutti vadano via dal, quando è finito diciamo il torneo, che sarà sabato, primo luglio, al Palatrendo, vadano soddisfatti e si ricordino sia della Pallavolo che anche del Trentino come un bel posto. Dal punto di vista invece dell'obiettivo della rappresentativa di Trentino, cosa ti auguri per le due squadre della tua regione? Ma guarda, io ho detto sempre, è chiaro che tutti giocano per vincere, quindi sia noi che le altre squadre. L'obiettivo, io quello che ho detto, è che cerchino di dare il massimo. Quello è l'obiettivo sempre che un atleta deve cercare di dare. Poi dopo, insomma, io non sono di quelli che chiaramente snerva i ragazzi, anche perché ne ho vinte tante e ne ho perse tante nella vita. Per cui l'importante è che si comportino bene. Io dico sempre che ascoltino l'allenatore, che cerchino di rispetto nei confronti dell'avversario, poi vinca il migliore. Dal punto di vista invece è proprio emozionale. Come Presidente sei il secondo Presidente che porta le kinderie di Trentino, per te personalmente è una bella sfida, è una bella iniziativa. Sì, guarda, hai ragione. Devo dire la verità che quando i Presidenti regionali e il Consiglio federale ci hanno dato l'opportunità di poter organizzare, avevo un po' di timore. Poi sono stato spronato anche da Pino Mazzon, anche da tutti gli altri del Comitato, i componenti nostri del Comitato. e di conseguenza insomma siamo andati in questa avventura e non ti nego che io tanti anni li ho giocati sul campo, ma questa forse è una delle soddisfazioni più grossi, diciamo, da dirigente.